ciao a tutti bentornati sono sierra allora oggi vi mostro la lamborghini aventadora nel nuovo aggiornamento di drive club vediamo com'è sta belva di auto belli interni ovviamente cruscotto lamborghini bellissimo e anche navigatore tutto tachimetro sottolgo perché non ci vedo il suono secondo me si avvicina a quello da lamborghini vera si avvicina non lo è completamente ma si avvicina più delle altre auto alle toni che si alzano automatico non tiene bene la frenata tende un po' ad andare dritta forse l'ho guidata un po' male io scoda pure però anche questa merita di essere guidata vabbè non esiste che la ferrari sia più veloce del lamborghini quella ferrari sono due auto diverse vediamo se riusciamo arrivare secondi grazie a tutti per avermi seguito iscrivetevi al canale e mettete mi piace ciao ciao